Il GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 38 indagati della Max Inchiesta sulla rete di asservimento e corruzione che sarebbe stata allestita dall'ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione. L'ipotesi della Procura è che il potentissimo imprenditore agrigentino, potendo contare su centinaia di posti di lavoro connessi alla gestione del servizio idrico, avrebbe messo in piedi una vera e propria organizzazione a delinquere composta da professionisti, forze dell'ordine, pubblici funzionari, big della politica, uomini delle istituzioni o semplicemente faccendieri che in cambio di un'occupazione per amici e familiari, talvolta pure di un co-co-co da 500 euro al mese, avrebbero asservito la propria funzione professionale o istituzionale a campione. Il patron di Girgenti Acque avrebbe potuto beneficiare di favori, omessi controlli e trattamenti privilegiati che andavano dalla rivelazione di notizie segrete da parte delle forze dell'ordine alle campagne di stampa a senso unico fino all'insabbiamento del provvedimento amministrativo prefettizio che avrebbe fatto fallire la sua azienda. Il pool di PM Agrigentini coordinati dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella ha chiesto da tempo il rinvio a giudizio di 47 persone e l'udienza preliminare è arrivata alla fase decisiva. La posizione degli altri 38 indagati è stata adesso archiviata su richiesta degli stessi magistrati che hanno ritenuto non provata la partecipazione a sodalizio criminale. Nella lista ci sono diversi big della politica nazionale come l'onorevole Gallo, Capo di Casa, Fontana, l'alto magistrato dell'Ipsis e Angelo Alfano insegnante in pensione, padre dell'ex ministro Angelino e poi ancora l'ex sindaco e deputato regionale Panepinto, gli ex presidenti di enti pubblici come Leto, Piro, gli avvocati Scozza, Rifaro, Rosato e i giornalisti Cassaldo. Un grosso filone dell'indagine relativa alle assunzioni, in alcuni casi il GIP ha ritenuto che i politici, funzionari e il padre dell'ex ministro Alfano avessero pressato o gestito in prima persona numerosi posti di lavoro per raccomandati. Non essendoci però riscondi, certi in merito eventuali contropartite, quindi non si configura alcuna corruzione e in generale alcun reato.